Che cosa propone il menù? Il menù propone polpette fritte con cuore di sottiletta, le rotolini di frittata con zucchine a pocarella E ancora carciofi fritti, pizzette, rotolini di melanzana, altro che riposo Se i più pigri aspettano il lunedì mattina per comprare la classica ruota di focaccia bella e pronta c'è chi trascorre il pomeriggio di Pasqua tra i fornelli in vista della gita fuori porta Per quante persone hai cucinato? Più o meno un centinaio Andiamo a Carovigno E' d'obbligo, a Pasquetta fuori 8 e mezza 9 su strada, che io oltre ad essere la cuoca sono anche l'autista del gruppo Vivo in Emilia, quindi sono scesa per i parenti, giro fra gli amici nel Salento e poi di nuovo su Niente gite, no, forse esco in bici In casa si sono dati un bel da fare, già da sabato con i piatti tipici baresi Passa al forno e parmigiana congelate e pronte per la cottura per il picnic del lunedì Nel cuore della baresità e il borgo antico, la meta, resta la foresta di Mercadante Una tradizione, ma non per tutti A Mercadante e a Pasquetta? Ma che stiamo a dire? Arco basso vende, a fare le recchiette per vendere, per fare la giornata e basta E lei che cosa mangerà? Domaino, ogni clip si, del panzerò Gita si, ma non necessariamente fuori porta, anzi Famiglia, tutti familiari, minimo 30-32 persone, sempre a casa Picnic a casa? Un picnic, in da casa, sopportate, con la Coca-Cola e la beremo a casa Un picnic, in da casa, sopportate, con la Coca-Cola e la beremo a casa